Fame, fame e responsabilità sono due ingredienti che serviranno al Teramo domani nella seconda trasferta consecutiva contro il Ponte d'Era. In una settimana in cui le brutte notizie arrivano dall'infermeria, quindi non recupera nessuno, ma le buone vengono fuori dal terreno di gioco con il dissequestro delle quote societarie del Teramo Calcio. Perché domani dobbiamo avere fame, perché quando siamo mancati in questo noi abbiamo rischiato e abbiamo fatto delle bruttissime figure. Però noi proveremo a vincere la partita, è chiaro che è questo il messaggio che do anche ai miei calciatori. Poi se non saremo bravi a vincere, è chiaro che dobbiamo cercare con tutte le nostre forze di uscire con un risultato positivo. È stata una notizia estremamente positiva che ci fa tornare un po' nella normalità, perché poi è chiaro che a livello psicologico qualcosa concedi sempre. Settimana di allenamento particolare per il Teramo, con allenamenti che Guidi, soprattutto nei primi due giorni, ha voluto di un certo tipo. Volevo vedere gli atteggiamenti di ogni singolo calciatore che nelle difficoltà doveva rispondere. Non solamente perché avevamo giocato una brutta partita a Carrara, ma anche dal punto di vista proprio caratteriale di tenere alla squadra, alla maglia, alla società, ai compagni. La squadra ha risposto bene e penso che siano stati estremamente sensibili in quello che è successo e penso che l'esame di coscienza se lo siano fatti tutti quanti. L'avversario è di quelli difficili, il Ponte d'Era del bomber ex della gara, Simone Magnaghi. Un ambiente, quello granata, che negli anni si è costruito e nella continuità ha fatto il punto di forza. Ma basti pensare che questo è un gruppo che è riuscito a battere il Modena, è riuscito a battere l'Entella, è riuscito a battere il Pescara, è riuscito a pareggiare con la Reggiani. Quindi so che troveremo un ambiente difficile, ma al di là del tema tattico, veramente domani non possiamo essere secondi dal punto di vista temperamentale, perché se no noi la partita la perdiamo facile. Magnaghi è un giocatore secondo me estremamente importante in Serie C e la costante che mi viene un po' da pensare è che chiunque vada a giocare davanti a Ponte d'Era trova l'ambiente ideale per esprimersi. E' questo per far passare un concetto che spesso i calciatori devono essere supportati nei momenti anche di difficoltà e soprattutto non essere giudicati al primo errore. L'emergenza potrebbe portare anche un cambio di formazione. 3-4-3 o 4-2-3-1 invece del consueto 4-3-3. L'emergenza è veramente totale in casa bianco-rossa. Qualcosa stiamo sbagliando anche magari a livello sanitario perché ci sono calciatori che ora sono più di tre mesi che mancano dal campo o un mese e mezzo e quindi che magari nella prima diagnosi erano cose molto più semplici e banali. Le alternative che sono nella testa del tecnico Federico Guidi sono più di una. Le soluzioni sono preste fatte. Abbiamo la possibilità di giocare a tre dietro con i due centrocampisti quindi 3-4-3 e poi abbiamo la possibilità di giocare con una batteria di tre quartisti. 4-2-3-1 perché con le due punte non abbiamo due attaccanti centrali. Quindi è chiaro che difficilmente ci schiereremo con due punte in orizzontale perché non ce le abbiamo in rosa.